Il problema è che da un certo punto in poi, ormai da alcuni anni, chi si laurea e si abilita nella classe A50 non fa neanche un esame di geografia, quindi non conosce la geografia fisica, non conosce la geografia umana, non conosce la cartografia e non di rato succede che abilitati nella classe A50 che si trovano ad insegnare geografia si rivolgono alla nostra associazione per avere dei suggerimenti sui metodi e sui contenuti. Spesso i ragazzi, questo è stato constatato anche attraverso delle verifiche nazionali, non hanno cognizioni nemmeno delle basi e della geografia, neanche di concetti fondamentali relativi allo spazio-tempo, basilari anche per conoscere meglio la realtà, per conoscere quello che ci circonda. Come mai questo non è ancora stato recepito a livello ministeriale? Ne parliamo con il professor Riccardo Morri, ordinario di geografia all'Università della Sapienza e presidente dell'Associazione Nazionale di Insegnanti di Geografia. Il problema è che in alcuni contesti non hanno accesso agli abilitati nella classe A21, questo vale in particolare per i licei dove gli abilitati nella classe A21 non possono insegnare storia e geografia. Mentre invece nelle altre scuole secondarie di secondo grado c'è un problema di un vecchio retaggio della cosiddetta tipicità, per cui molto spesso, a volte ancora addirittura nella formazione di nuove cattedre, le ore di insegnamento di geografia vengono date agli abilitati nella classe A50, quindi chi insegna scienze. E purtroppo chi insegna scienze, chi si laurea in scienze non ha esami di geografia nei loro percorsi formativi più recenti. A livello didattico è un danno enorme perché chi si abita nella classe A21 ha una formazione universitaria e post-universitaria che è adeguata ai più recenti sviluppi dal punto di vista teorico e metodologico per l'insegnamento della geografia. E quindi viene a mancare il contributo specifico rispetto sia all'apprendimento delle conoscenze e le competenze di base, sia a tutto lo sviluppo anche rispetto all'accesso alle nuove tecnologie che oggi gli abitati in A21 sono in grado di conoscere e dominare diversamente da altri docenti. Oggi vengono assegnate le discipline di geografia a docenti nelle scuole medie non specializzati che non hanno una formazione di geografia e alle superiori avviene in parte soprattutto nei licei. La nostra associazione propone per i licei innanzitutto il superamento definitivo dell'abbinamento tra storia e geografia e il ritorno quantomeno a due voti distinti per la disciplina e in prospettiva la possibilità per gli abilitati nella classe A21 di insegnare geografia anche nei licei. Naturalmente per quello che riguarda gli altri ordini e gradi di scuola un aumento in generale delle ore di insegnamento di geografia e rispetto alla contrapposizione tra A21 e A50 la semplice e mera applicazione di quello che prevede la normativa a livello nazionale e a livello ministeriale. La tipicità non esiste più e quindi chi è deputato a insegnare geografia nelle scuole professionali e negli istituti tecnici sono solo ed esclusivamente gli abilitati nella classe di concorso A21. Anche la geografia si deve adattare a quelle che sono le nuove istanze, le nuove richieste a livello sociale e a livello di conoscenze in generale. Il problema è proprio quello di una preparazione specifica all'insegnamento della geografia. Naturalmente chi ha conseguito il titolo di insegnare scienze con vecchie precedenti lauree ha ancora la possibilità se deve andare a completamento delle ore e questo è un diritto legittimo. A questo punto la speranza è che una commissione che riguarda le cosiddette indicazioni nazionali possa recepire le richieste degli specializzati, di coloro che conoscono a fondo la disciplina. Io faccio parte insieme a tanti altri colleghi della commissione per la revisione delle indicazioni nazionali. Noi stiamo studiando, lavorando a un aggiornamento dopo oltre dieci anni, chiaramente anche fisiologico, un aggiornamento delle indicazioni nazionali, anche se le precedenti erano già scritte molto bene per la geografia e contestualmente abbiamo presentato insieme a tutti i sodalizi scientifici geografici presenti in Italia una richiesta di aumento delle ore di insegnamento della geografia in tutti gli ordini e gradi di scuola. Questo è un aspetto fondamentale proprio per far sì che si superi quella condizione di analfabetismo geografico diffuso nel nostro paese. Grazie a tutti.